Ma innanzitutto vorrei dire che siccome io faccio il Presidente del gruppo della Lega Nord alla Camera dei Deputati e ovviamente voi potete capire che se uno vive soltanto in Parlamento alla Camera e legge i giornali e guarda la televisione potrebbe immaginare che la gente vuole l'abrogazione della legge Bossifini, vuole che arrivino i clandestini e che noi qui in piazza siamo un'infima minoranza, la verità è che ci vuole il coraggio e la pazzia della Lega per portare in piazza quello che pensa la gente comune, quello che pensano tutti, quello che non pensano i grandi zoloni che scrivono sui giornali o che ci fanno le prediche in televisione. E allora ci vuole la pazza Lega a tenere duro e fare questa manifestazione anche dopo quello che è successo, perché quello che è successo se volete ha commosso anche noi e la pietà è anche pietà nostra, però in questi momenti chi ha la responsabilità di governare deve avere certamente sentimenti di pietà ma deve anche essere cosciente che non può permettersi di derogare a certi principi che sono quelli del rispetto delle regole, perché uno Stato esiste se le regole ci sono e fatte rispettare e questo è un paese e l'amnistia l'indulto di cui ho parlato Calderoli ne è testimonianza, in cui tutti fanno quel cazzo che vogliono e la gente che arriva, arriva soprattutto perché qui si consente di fare quello che altrove è proibito. Io non la voglio fare lunga, ma oggi leggendo il Corriere, naturalmente non nelle prime pagine perché lì c'è il politicamente corretto, nella cronaca di Milano, pagina 7 e purtroppo credo che tanti di voi magari non la guardino neanche perché esce soltanto di Milano, c'è un articolo, titolo così, stranieri, trucchi per aggirare le leggi, così evitiamo di essere espulsi, c'è un elenco, nazionalità per nazionalità, degli stratagemmi utilizzati in un paese come questo che evidentemente è un paese di marionette, per non essere espulsi, vi leggo qualche caso, due o tre casi così a modo esempio, poi se volete andare a leggervelo vi divertirete, l'articolo è questo qua, pagina 7 della cronaca di Milano, inizia così, Mercedes si è preso un mese di ferie per tornare a casa in Ecuador, lo fa anche per rivedere i familiari che non abbraccia da due anni, ma soprattutto vista la crisi che è in ascesa libera torna in patria per sposarsi, un matrimonio combinato in cambio di 12 mila euro, quando Mercedes rientrerà a Milano chiederà ricongiungimento familiare, lui prende un permesso per famiglia e da quel momento sarà autonomo, se lavora potrà avere il permesso per lavoro, se si separa avrà un permesso di attesa occupazione, di certo la moglie incassa i soldi e poi ognuno per la propria strada, caso numero uno. Caso numero due, Cina, con i cinesi è praticamente impossibile ottenere un lasciapassare dal loro consolato, se non viene prodotta una fotocopia del passaporto dello straniero, chi si guarda bene dal mostrarlo, è vero che non averlo è un reato, ma il clandestino non lo porta mai con sé per non essere identificato, viene denunciato a piede libero e lui si rende irreperibile sul territorio. Caso numero tre, Albania, altro scamotage, molte donne albanese in stato di gravidanza entrano in Italia con un timbro sul passaporto, uniforme Schengen, trascorsi i 90 giorni diventano irregolari, ma ottengono obbligatoriamente un permesso di soggiorno per cure mediche che consente loro di usufruire dalle strutture sanitarie italiane fino al compimento del sesto mese del bambino. Mi fermo qui perché c'è tanta gente che deve parlare, ma l'articolo per ogni nazionalità c'è scritto esattamente che cosa succede. Questo vuol dire che quando arrivano hanno il manuale, il manuale che qualcuno gli ha dato in mano per prendere per il culo esattamente un paese che si permette di farsi prendere in questo modo. Noi siamo stupidi di questa situazione perché vedete, quando vi vengono a dire che bisogna tagliare le pensioni, che le pensioni di validità al 100% per un handicappato grave al 100% in Italia sono 487 euro al mese e non possono essere aumentate perché lo Stato sociale costa, non ci sono i soldi. Una cosa deve essere chiara a tutti, lo Stato sociale per tutto il mondo l'Italia non se lo può mantenere e i nostri migranti che vi fanno vedere in televisione che andavano negli Stati Uniti, sì andavano negli Stati Uniti, ma loro avevano delle regole chiare e gli Stati Uniti potevano permettersi di dargli un lavoro e mantenerli. Noi non siamo in questa situazione e solo grazie alla Lega la gente, la gente silenziosa che è chiusa nelle case oggi può far sentire la propria voce. Grazie.